Ridare a Pozzilli un ruolo di centralità tentando di arginare gli effetti negativi di una crisi che negli ultimi anni non ha fatto sconti a nessuno. Un obiettivo ambizioso ma non impossibile che passa attraverso lo sviluppo e la promozione del paese, della zona industriale, delle sue caratteristiche e soprattutto delle sue eccellenze. E' l'obiettivo dell'attuale amministrazione comunale guidata da Stefania Passarelli che a poco più di un anno dal suo insediamento traccia un primo bilancio dell'operato della sua squadra. Attività che spaziano dalla riorganizzazione della macchina comunale alla pubblica istruzione, dai lavori pubblici e servizi ai cittadini, dalla riqualificazione delle strutture sportive alle politiche sociali. L'idea è quella di percorrere la strada della rinascita un passo alla volta, tenendo bene a mente gli obiettivi da raggiungere e perché no, confidando anche in strumenti che potrebbero rivelarsi decisivi come ad esempio il riconoscimento dell'area di crisi per riportare Pozzilli al centro dell'agenda regionale. E' una missione questa, speriamo che l'area di crisi ci dia una mano per far decollare ancora di più quest'area industriale, che insomma problemi ne ha tanti, però insomma siamo fiduciosi, ce la dobbiamo mettere tutta, dobbiamo sperare, dobbiamo contribuire ad accogliere queste nuove aziende e a farle sentire a proprio agio, dandogli al massimo i servizi che possiamo dare. Fatta la premessa e definiti gli obiettivi, entriamo adesso nel cuore del primo bilancio stilato dall'amministrazione Passarelli, partendo dall'ultima conquista in ordine cronologico di cui la sindaca si dice particolarmente soddisfatta, ovvero l'inaugurazione della nuova sede del comune, diventata anche nuova casa del consorzio industriale. Veramente ci ha assorbito tanta energia, però penso che adesso i cittadini sono contenti perché abbiamo una sede insomma degna di un paese che è in forte crescita, abbiamo dato il servizio navetta, quindi tre volte al giorno, accompagnano i cittadini, però si sta utilizzando poco perché evidentemente i pozzili hanno tutti la macchina, quindi nessuno ha questa esigenza. Abbiamo aperto anche lo sportello comunale in modo tale che il comitato cittadino sarà di supporto ai cittadini se hanno bisogno di qualche notizia oppure hanno bisogno di qualche piccola certificazione che possano assolvere loro a questo impegno. Capitolo importante per la vita di un paese è senza dubbio rappresentato dai lavori pubblici. Tra le opere già appaltate e finanziate, solo per fare qualche esempio, troviamo i lavori di pulizia del torrente Rava, l'affidamento per l'installazione della casa dell'acqua e quello per la realizzazione di un eliporto. Passaggio, quest'ultimo, che potrebbe rivelarsi particolarmente importante per lo sviluppo del paese. Rilevanti novità arrivano inoltre anche in materia di edilizia scolastica. A settembre, infatti, sarà inaugurato il nuovo plesso che ospiterà i ragazzi delle medie costretti a lasciare lo storico stabile di Via San Marco lo scorso anno a causa dell'inagibilità della struttura. A settembre inauguriamo la nuova sede, la scuola media secondaria. Stanno finendo di fare i lavori all'esterno, dentro hanno già ultimato, stiamo vedendo già per le pulizie interne e per arredarla. Mi sono resa conto che i banchi e sedie che abbiamo sono tutti rovinati, proprio da togliere. Quindi ho messo un avviso, ho mandato una lettera a tutti i direttori di stabilimento, chiedendo un finanziamento con una scritta sul banco della loro società. E devo dire che ad oggi già tantissimi mi hanno dato l'ok per acquistare banchi e sedie nuove. Quindi sarà una scuola anche tutta arredata, grazie sempre alla voglia di fare e a tutti quelli che ci aiutano in questo percorso. E sempre a settembre potrebbe essere disponibile anche il nuovo asilo nido. La struttura è già ultimata, manca soltanto l'ascensore e un restyling all'esterno. Dopodiché spero per settembre di farcela e di aprire anche l'asilo nido. Cambiando argomento, i cittadini di Pozzilli sono alle prese ormai da qualche settimana con la raccolta differenziata porta a porta, altro punto di questo primo bilancio dell'amministrazione comunale. Nonostante le iniziali comprensibili difficoltà, pare che i cittadini si stiano ora organizzando al meglio. Vedere un paese senza bidoni è una cosa bellissima, ha un senso proprio di civiltà. Camminando e parlando con la gente, tutti quanti mi dicono Stefania ti ho maledetto per due o tre giorni. Però adesso ti devo dire che è stato soltanto i primi giorni, ma adesso siamo veramente contenti. Nuova linfa al paese inoltre sta dando il rinnovato centro sportivo. La riqualificazione del campo di calcio a 5 e la riapertura della piscina comunale sono motivo di grande soddisfazione per la sindaca Passarelli. Sì, è stata una grande conquista, riaprire il centro sportivo e riaprire un campo di calcio a 5 dove comunque i ragazzi, anche quelli che non erano abitati a giocare sull'erba sintetica, lo chiedevano fortemente. Spero, questa è una notizia in anteprima, di poter ospitare Miss Mondo qui a Pozzilli. Stiamo valutando di farlo il mese di agosto al centro sportivo, che così è una bella location, non c'è la piscina e tutto, quindi speriamo di fare anche questo per quest'estate. Il lavoro compiuto finora, ci tengono a sottolinearlo gli amministratori di Pozzilli, è frutto di una costante collaborazione con i cittadini e con il territorio, resa possibile anche grazie alla costituzione di un comitato cittadino, fondamentale tra i union tra popolazione e amministrazione. Credo che la forza viene dal popolo, quindi se hai la voglia di fare e il popolo ti aiuta in questo percorso, le cose riescono fortemente. E ci ho visto bene e ci ho visto lungo perché il comitato cittadino sta facendo tante cose, ci sta aiutando fortemente. Una sfida, quella lanciata dal sindaco, subito raccolta da un gruppo di cittadini, che a seguito di regolare votazione ha costituito questo comitato, ne ha approvato lo statuto ed eletto il suo presidente nella figura di Giovanni Bellini, che abbiamo incontrato per guidarci nel percorso di nascita e conoscenza di tale organismo. Il nuovo sindaco Passerelli già nel suo programma aveva previsto di avere un organismo del paese che potesse collegare molto di più l'amministrazione comunale al paese. Il sindaco ha voluto prevedere un pacchetto di persone che potessero sostenerla nel programma dell'amministrazione, ma soprattutto che potesse essere propositivo per le necessità del paese. Ora il comitato cittadino di Pozzilli ha una sua sede, al centro del paese, la stessa che ospita, non a caso, anche il centro per anziani. La sede diciamo che è da poco che è funzionante, ma è stata collocata al centro del paese, ma è stata messa in condizione di operare insieme a un altro organismo che è operativo nel comune, cioè quello di un centro per anziani. Non è casuale, è una scelta fatta con un certo principio. Gli anziani devono ritornare ad essere protagonisti, quindi questo è un centro dove si fa aggregazione e si fa una serie di attività ricreative, culturali, di promozione, di informazione a una categoria che, essendo debole, non era sufficientemente presente nell'ambito del comune. Il presidente Bellini ci tiene inoltre a spiegare le finalità del comitato da lui stesso guidato e spazzare via ogni tipo di dubbio su possibili contrapposizioni con altri organismi presenti sul territorio. Vorrebbero che noi diventassimo una seconda proloco. Noi non siamo una seconda proloco. Noi promuoviamo eventi, ma non gestiamo eventi. Li promuoviamo in vari settori. Prima di tutto quello che parte da un principio base è vivere bene per vivere meglio in un contesto ambientale sano dove quello che c'è della natura, quello che c'è nell'urbanistica, quello che c'è nel paese deve essere migliorato per far sì che i cittadini si sentano orgogliosi di vivere in questo paese. Poi spazio ai programmi, sono centrati principalmente sulla valorizzazione del paese e delle sue eccellenze. Ci stiamo preoccupando di promuovere ed elevare quello che di buono c'è sul nostro territorio. Anche nell'ambito territoriale ci sono delle eccellenze assolute. Basta parlare della Neuromed. Ma la Neuromed può stare qui se questo territorio viene preservato e si fa di tutto perché l'ambiente diventi sempre più accogliente. E a tal proposito il Presidente Bellini e l'intero comitato cittadino hanno già le idee chiare sulla strada da percorrere. Allora nel nostro programma abbiamo pensato che dobbiamo difendere le eccellenze. C'è la Neuromed ma ci sono anche delle attività imprenditoriali di piccolo livello. I fornai, quelle che fanno le mozzarella, quelle che fanno l'orto, quelle che fanno le cose che... e abbiamo pensato quindi di fare una prima manifestazione per mettere in evidenza queste eccellenze che tutti trascurano. Immancabile il riferimento all'ambiente, punto chiave del programma del comitato cittadino. Faremo una manifestazione che si ricollega alla festa mondiale della natura, della terra che è stata fatta nel 1970. Coinvolgeremo tutto il Paese per quel principio che abbiamo detto di salvaguardare quello che abbiamo e di migliorare l'aspetto urbanistico e fare tutti qualcosa per far sì che questo Paese diventi sempre più bello, più apprezzato dai propri cittadini e quindi ovviamente più apprezzato da chi viene da fuori. Coinvolgeremo la scuola perché vogliamo che questo principio culturale di salvaguardare l'ambiente e di fare tutto per non deteriorarlo. Quindi la scuola parteciperà con un tema molto molto semplice, com'è il tuo Paese e come vorresti che fosse. Una chiacchierata, quella con sindaco e presidente del comitato cittadino di Pozzilli, che ha consentito di fare il punto su questo primo anno di amministrazione. Un anno ricco di obiettivi raggiunti che lascia ben sperare per il futuro perché tanti sono ancora quelli da raggiungere. Ma le premesse sembrano buone, d'altronde, lo ha detto anche il governatore Frattura nel giorno dell'inaugurazione della doppia sede di comune e consorzio, quando si inaugura, di questi tempi, è solo positivo. Ed i nastri da tagliare a Pozzilli, a sentire il sindaco, ce ne sono ancora parecchi. Grazie. Grazie.